Pasqua e Pasquetta da pollice in su per gli alberghi pesaresi che in questo weekend di aprile sono andati vicino all'80% di aperture degli hotel cittadini. A farla da padrone i tornei di basket Ciao Rudy e Olimpia che hanno portato in città 160 squadre giovanili da tutta Italia riempendo strade, palestre, alberghi e ristoranti. Sostanziosa però anche la componente extra cestistica che ha fatto sorridere le strutture ricettive con più presenze rispetto all'ultimo anno. Siamo che quest'anno le prenotazioni sono tornate in maniera più importante rispetto all'anno scorso, probabilmente le persone si organizzano anche meglio, si organizzano prima quindi siamo sopra un 20% di prenotato rispetto all'anno precedente. L'Apa Hotels riconosce il valore dei tornei di basket ma invita il sistema cittadino a spingere su altri eventi che anche a maggio favoriscano la destagionalizzazione mantenendo aperti gli alberghi anziché vivere della prechiudia singhiozzo fra Pasqua ed estate. Albergatori che indicano nel completamento dell'auditorium Scavolini un tassello decisivo per puntare in maniera importante sulla convegnistica fra aprile e maggio. Vecchio Palace che in questo aprile vede la partenza del suo ultimo miglio dei lavori. C'è poi un cantiere che partirà domani particolarmente caro agli albergatori, quello della riqualificazione di piazzale d'annunzio che nei prossimi mesi cambierà il suo profilo divenendo una piazza a tutti gli effetti e ravvivando in maniera importante il litorale di Levante. Per gli albergatori sarà importantissimo rispettare il cronoprogramma per non ritrovarsi l'estate con lungomare cantierizzato.